Eccoci qua, oggi vi racconto due storie di paura, in realtà due buffonate. La prima risale a luglio scorso, appena insediati senatori e deputati alla Camera e al Senato, alcuni senatori 5 Stelle, capeggiati da Daniela Donno, depositano un disegno di legge per la ricostituzione della commissione di inchiesta parlamentare sul femminicidio. La stessa che ha fatto danni e ha raccontato un sacco di balle alimentando la narrazione tossica che ben conosciamo sulla violenza e la discriminazione sulle donne, volendola replicare anche in questa legislatura. Quindi appena insediati, la priorità di questi senatori è fare la commissione sul femminicidio e la propongono portando dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sono globali e l'Italia è solo un microbo rispetto ai dati che portano. Parlano di patriarcato, figuriamoci, c'è il patriarcato in Italia, prove zero, ma il patriarcato c'è. Ovviamente si fa riferimento alla Convenzione di Istanbul, immancabile, una fuffetta sul piano del diritto internazionale, ratificata a stento, però tant'è se ne parla. Ovviamente si parla dei famosi dati ISTAT, di cui abbiamo già parlato, dati ISTAT che vengono dati come certi. Quindi in Italia sono 7 milioni le donne vittime di violenza. In realtà si sa, sono ipotesi, sono stime, non si può dire sono. Però la proposta di legge lo dice ed è puntata, lo dice il nome stesso della Commissione, sul femminicidio. Cioè è un fenomeno che, stando ai dati del 2018, riguarda 45 donne. Quindi 45 donne che sono state uccise effettivamente dal partner, o ex partner, se perché femminicidio voglia dire questa cosa. Quindi per un fenomeno di 45 persone in un anno si fa una commissione d'inchiesta. I 600 morti sul lavoro non sono meritevoli di un'inchiesta, nemmeno, che ne so, i 2.000 suicidi all'anno, o i 6.000 morti per infezioni post ricovero, la nostra sanità come messa, no. Lì la Commissione non ha senso, o i senza fissa dimora, per esempio anche lì è un fenomeno da nulla, sono innumerevoli, sono migliaia di persone, ma lì la Commissione di parlamentare d'inchiesta non si fa. Si fa solo sul femminicidio. In realtà è un tentativo che il 5 Stelle, questo che è una maggioranza, fa parte della maggioranza del governo del cambiamento teorico, poi in realtà fa le stesse cose che faceva la maggioranza precedente, nella precedente legislatura. In realtà si vuole esattamente come prima, ricreare uno strumento che sia un presidio rispetto alla cura delle clientele, alla cura del business, alla cura dei centri di potere, che ruotano attorno a questa bolla, come la chiamo io, questo sistema di pensiero, questo filone di pensiero per cui in Italia la violenza sulle donne dilaga, la discriminazione delle donne sul lavoro, in casa, ovunque, è una realtà tangibile, cosa che ovviamente non è. Io su questa cosa, prima delle vacanze estive, ho mandato una lettera alle istituzioni, a Conte, Casellati, Di Maio, Salvini, Donno, sono reperibili sul blog, dove porto alcuni dati, alcuni ragionamenti, alcune ricerche nazionali e internazionali che smentiscono totalmente tutte le balle che vengono dette in premessa a questo disegno di legge dei 5 Stelle, chiedendo che venga assolutamente ritirato, perché se venisse per caso approvato, questa volta sarebbe veramente un atto ostile nei confronti di tutti gli uomini d'Italia, perché si baserebbe su delle balle che non hanno fondamento. Ma non è finita, questa è la prima storia dell'orrore, anzi la prima buffonata, ce n'è una seconda che è uscita questa settimana, un gruppo di senatrici trasversali dei vari partiti, ma cappeggiati, almeno sui media, dalla PD Valeria Fedeli, forse ve la ricordate quella specie di ibrido tra E.T. e Maga Mago, che in perfetto italiano, peraltro quindi senza fare errori di grammatica, dice che è necessario che proporrà, insieme ad altre senatrici appunto, l'istituzione di una commissione parlamentare permanente per i diritti delle donne. Uno dice, ma c'è già il dipartimento, quello, vabbè, c'è spadafora, quindi un po' come se non ci fosse nessuno, però c'è già un dipartimento, perché duplicare sul piano istituzionale una commissione? Ce lo dice lei perché? E dice, molto chiaro, senza neanche vergognarsi, si dice, per monitorare tutto ciò che emanano le camere affinché nessun provvedimento possa creare un discrimine legato al genere. A questo servirebbe la commissione che vogliono la Fedeli e compagnia. Ovviamente poi dice, la commissione chiederà studi, approfondimenti specifici, anche agli istituti di statistica a partire dall'Istat, ce li vedo già quelli dell'Istat, che si fregano le mani, ci arrivano altri soldi, rimestiamo un po' le vecchie porcate fatte con la Sabadini, e anni fa le riscaldiamo un po', le ripresentiamo, intanto i soldi arrivano, andiamo avanti. Ma se stiamo al punto, cioè a cosa serve per monitorare quello che emanano le camere, quello che viene proposto è una specie di inquisizione, un minkul pop in rosa, tutto deve passare da lì, tutte le proposte di legge dovrebbero, nelle intenzioni, passare da lì e ricevere timbro positivo, timbro negativo, a seconda che quella disposizione, quella proposta, quel decreto, qualunque cosa sia, vada a favore o meno dei diritti delle donne, nomini la parità, la lotta per la parità delle donne. Se fosse davvero corretta una cosa del genere, dovrebbe eliminare varie cose, tipo il fatto che le donne vanno in pensione prima, almeno andavano in pensione prima, si capisce perché, o il fatto che ci sono incentivi per l'imprenditoria femminile, per l'assunzione di donne o per l'accesso all'assetto, quale roba lì dovrebbe essere cancellata, ma no, ma no, no. La commissione riguarda la protezione dei diritti delle donne, e quindi si presume che le donne siano, appunto, discriminate. La premessa di una cosa del genere è che le donne siano vittime di violenza, di discriminazione e quant'altro. Il tutto viene fatto, dice la Fedeli, sotto l'effetto, sotto la necessità di applicare correttamente l'articolo 3 della Costituzione, che è quello che dice che siamo tutti uguali di fronte alla legge, senza differenze di razza, di religione, di orientamento politico e appunto di genere, quindi uomini e donne. In realtà, appunto, abbiamo visto, se è una commissione che si occupa solo di donne, non è questo. Si parte dal presupposto che le donne siano vittime, dal vittimismo di base, tipico di questa linea di pensiero. In realtà, l'articolo 3 della Costituzione viene ben rispettato se si fa come ha fatto Giuseppina Cennamo, in Molise, che ha chiesto al Consiglio regionale di modificare la legge sulla commissione pari opportunità, dicendo che deve essere composta metà da uomini e metà da donne, non tutta da donne. Solo così rispettiamo l'articolo 3. Ma Giuseppina Cennamo è assolutamente un altro livello rispetto a Fedeli e a queste senatrici qua, che fanno riferimento, tra l'altro, per giustificare la loro proposta delle esperienze europee. L'ho un po' cercato e non ho trovato niente di simile a questa sorta di filtro inquisitorio sulle leggi. Forse in Svezia c'è qualcosa del genere, ma lì è un posto dove cacciano i professori di medicina perché si azzardano a dire che in natura i generi sono due, maschio e femmina. Io forse quello ne farei volentieri a meno. In Svezia mandiamoci la Fedeli e tutte queste senatrici qua, così si trovano benissimo. In realtà anche qui è tutta una questione di presidio per gli interessi, le clientele e tutta quella roba di cui parliamo spesso, ma sullo sfondo c'è un'altra cosa. C'è la legge di riforma di separazione affidi. È ovvio, si vuole istituire questa commissione per controllare che leggi del genere non passino, che sia la proposta Pilon. Qualunque altra proposta che crei una perequazione in questo sistema assolutamente sbilanciato ad oggi delle separazioni affidi, lì verrebbe bloccato, lì c'è il filtro. Timbro no, la legge non va avanti. È un po' questo l'obiettivo. Questo sta sullo sfondo, ma è sicuramente anche questo. Di fatto se la commissione sul femminicidio è un atto ostile, nel caso venisse fatto sarebbe un atto ostile, sicuramente quest'altra commissione sarebbe un atto di guerra, ma non a confronto verso gli uomini, soltanto gli uomini italiani, ma verso tutti, verso la cittadinanza, verso il buonsenso, verso la verità delle cose. Sarebbe un atto di guerra a cui si dovrebbe rispondere a tono. Prima cosa, da parte mia perlomeno, farei una denuncia di queste senatrici, le denuncerei per falso ideologico, perché non si può in una proposta di legge, quindi una cosa ufficiale, un atto pubblico, dichiarare che le vittime di violenza sono 7 milioni di donne, quando in realtà è un'ipotesi, tantomeno si può dire che i femminicidi stanno aumentando in modo spaventoso, perché non è assolutamente vero, anzi sono in calo verticale, questo lo dicono i numeri. Io ho detto nelle lettere ricomandate ad agosto alle istituzioni che più che fare iniziative di questo tipo, che continuano, che sono delle prese in giro poi alla fine, servono solo ad alimentare il business, le clientele e quant'altro e alimentare questo clima di vittimismo e di retorica femminista e femminile senza fondamenti, invece di fare una cosa del genere si istituisca una commissione per il dialogo e la concordia tra i generi. Uomini e donne che facciano piazza pulita degli ideologismi sterili e delle polemiche sterili della retorica senza fondamento e incominciano insieme a guardare lo stato dell'arte e impostino le radici per il futuro sotto tutti gli aspetti, per le separazioni, gli incentivi e quant'altro, ma su dati reali, esattamente come i cittadini vorrebbero. Se così non sarà, se si dovrà andare alla guerra, va bene, andremo alla guerra, noi ci saremo. Grazie. 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 Grazie.